Molto bene, dopo aver trattato nella lezione precedente quelli che sono gli aspetti fondamentali della corrente elettrica e dell'intensità di corrente elettrica, ci occupiamo adesso di un tipo fondamentale di corrente, che poi è quella che studieremo quest'anno, che va sotto il nome di corrente di conduzione. Quindi scriviamo corrente di conduzione. Allora, la corrente di conduzione è quella che è presente nei metalli. Allora, un metallo lo possiamo rappresentare, ad esempio, come un lungo filo conduttore, va bene, sottile o spesso, eccetera, non importa. All'interno del conduttore ci sono le molecole, ci sono gli atomi, ma ci sono anche gli elettroni. Allora, quello che si nota sostanzialmente è che gli elettroni si muovono all'interno del reticolo cristallino con velocità, che possiamo indicare con bt, velocità di trascinamento, dell'ordine di 10 alla, vediamo se riesco a scriverlo, di 10 alla quinta metri al secondo. Quindi con velocità notevoli, specialmente se le paragoniamo alle lunghezze dei conduttori. Ecco, però, la cosa interessante è che queste velocità di questi elettroni che si muovono nel reticolo cristallino sono delle velocità in tutte le direzioni. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io considero, diciamo, un elemento di volume che contiene tantissimi elettroni, alla fine la media delle velocità in questo elemento di volume risulta essere uguale a zero. Per cui, effettivamente, nel conduttore, non soggetto, diciamo, a nulla dall'esterno, le cariche sono macroscopicamente ferme. Mentre in realtà, in base a quello che abbiamo detto, questi elettroni nel reticolo cristallino si muovono in tutte le direzioni con velocità piuttosto elevate. Adesso, supponiamo di applicare un campo elettrico, per esempio, un campo elettrico in questa direzione qui. Allora, e cosa succede? succede che gli elettroni, va bene, subiscono, diciamo, un movimento verso sinistra, poiché il campo elettrico agisce verso destra. Ora, questa velocità acquisita dagli elettroni è una velocità molto bassa rispetto alla velocità di trascinamento, perché è dell'ordine di 10 alla meno 3 metri al secondo. Tuttavia, è proprio questa velocità, detta velocità di deriva, che determina un movimento ordinato di questi elettroni. Cerchiamo di vedere la questione da questo punto di vista. Cioè, noi abbiamo una quantità notevole di elettroni che si muovono in maniera disordinata, con velocità elevate nel reticolo cristallino. Quando applichiamo un campo elettrico, che cosa succede? Succede che ciascuno di questi elettroni acquistano una velocità di deriva, molto piccola rispetto alla velocità di trascinamento, dell'ordine di 10 alla meno 3 metri al secondo. Ma tutti questi elettroni si muovono nella direzione e in verso opposto al campo elettrico. Quindi si ha un movimento ordinato di cariche elettriche che produce, appunto, una corrente elettrica. Tuttavia, attenzione, guardate bene. Il campo elettrico io l'ho disegnato diretto verso destra, mentre gli elettroni giustamente si muovono verso sinistra. Ora, da un punto di vista della teoria delle correnti elettriche, si dice che si ha una corrente elettrica I diretta verso destra, cioè contraria al movimento di elettroni. Cioè, sostanzialmente, quello che si dice è questo. Se si ha un movimento di elettroni da destra verso sinistra, è come se si avesse un movimento di cariche positive più E da sinistra verso destra. Quindi ricordatevi che la corrente elettrica I viene indicata in un certo modo in un filo conduttore, ma in realtà gli elettroni si muovono in senso opposto. Perché, diciamo, questa differenza? E perché le correnti sono state scoperte prima degli elettroni. E quindi si è fatta una convenzione sbagliata, diciamo, nel 1700-1800, e questa convenzione continua a rimanere fino ad oggi. Quindi, diciamo, facciamo un altro esempio. supponiamo di avere un filo conduttore così, supponiamo che il filo conduttore sia percorso da una corrente I così, allora il generico elettrone si muove così. Quindi l'elettrone si muove in senso contrario alla corrente elettrica. Va bene? Quindi abbiamo detto qualcosa relativa alla corrente di conduzione. Adesso introduciamo un'altra importante grandezza fisica che va sotto il nome di vettore densità di corrente elettrica e che viene indicato con la lettera J. Allora, vediamo come nasce questa grandezza fisica. Allora, adesso noi consideriamo un conduttore, diciamo, infinitesimo, di spessore infinitesimo di S e poniamoci la seguente domanda. Quanto vale la quantità di carica, quindi quanto vale la quantità di carica di Q che attraversa di S nel tempo di T. Nel tempo di T. Allora, naturalmente, noi possiamo indicare questa carica con di Q e possiamo immaginare questa carica di Q sia uguale alla densità di carica ρ per l'infinitesimo di volume. ρ è la densità di carica di volume. Ma la densità di carica, ma adesso il volume di V si può anche immaginare come di S per di L. Ma di L che cos'è? Di L è proprio lo spazio percorso da questi portatori di carica nell'unità di tempo di T. Quindi si può scrivere sicuramente in questo modo. Allora, saliamo un pochino sopra. ρ di S dV cioè, ρ di S che lo scusa, velocità per l'infinitesimo di tempo. Va bene? Quindi lo possiamo scrivere anche in questo modo. ρ V di S di T Ma allora la corrente infinitesima di Conilo chiamata infinitesima perché, attenzione, è una corrente che attraversa una superficie infinitesima che naturalmente risulta essere di Q su di T sarà uguale a ρ per la velocità per di S Ma allora questa quantità qui la possiamo anche scrivere nel caso, diciamo, in cui possiamo scrivere anche in questo modo qui cioè, possiamo scrivere come ρ per il vettore velocità scalare il vettore superficie Adesso non riesco a fare ecco, l'ho fatta riusciamo a fare quindi, attenzione, l'infinitesimo di carica altro non è che la densità di volume di carica per il prodotto scalare della velocità contro la superficie normale è chiaro che se la velocità è parallela al vettore normale io potrò scrivere V di S quindi, attenzione, se io ho una situazione di questo tipo va bene dove questo è il vettore di S e le particelle arrivano con una velocità V parallela di S allora V scalare di S e V di S per attenzione se invece ho un'altra situazione in cui abbiamo prendiamo per esempio che ne so una superficie così il vettore di S è orientato in questo modo e la velocità delle particelle arriva in questo modo qui allora attenzione che la quantità di carica infinitesima che attraversa nel tempo di T questa superficie infinitesima non sarà ρ V per di S ma sarà ρ per il prodotto scalare della velocità contro l'elemento di superficie di con S allora riscriviamo nuovamente la formula la formula è T uguale a che cosa? a ρ va bene per la velocità scalare l'elemento di superficie orientato di con S ma allora noi possiamo anche scrivere che la corrente I su una superficie diciamo conduttrice sigma sarà nient'altro che ρ V scalare di S ma allora questo che cosa vuol dire? vuol dire sostanzialmente che la corrente elettrica è il flusso di questo vettore e noi abbiamo già incontrato il concetto di flusso e sappiamo che è un concetto molto importante in fisica ed è per questa ragione che questa quantità qui assume un nome speciale e si chiama vettore densità di corrente elettrica allora che cos'è il vettore densità di corrente elettrica in un punto qualsiasi del conduttore e il prodotto fra la densità di carica ρ delle cariche che si muovono per la velocità delle cariche stesse abbiamo scoperto un risultato molto importante e cioè che l'intensità di corrente attraverso una superficie sigma qualsiasi di un conduttore altro non è che il flusso uscente del vettore densità di corrente j attraverso la superficie sigma quale sarà l'unità di misura del vettore j sarà nient'altro che ampere su metro al quadrato molto bene nella lezione successiva cercheremo di stabilire un collegamento fra il vettore j e il campo elettrico per quale motivo deve esserci un collegamento perché noi abbiamo detto ad esempio che in un conduttore il campo elettrico il campo elettrico mette in movimento gli elettroni che sono i portatori di carica ma se il campo elettrico diciamo se il campo elettrico mette in movimento i portatori di carica allora è chiaro che il campo elettrico implica diciamo l'esistenza di un vettore densità di corrente j dopodiché la corrente non è nient'altro che il flusso del vettore densità di corrente j allora ci deve essere un legame fra e e j attenzione questo legame in generale è complesso tuttavia vedremo che per una particolare categoria di conduttori questo legame diciamo è abbastanza semplice cioè un legame di tipo lineale ma lo vedremo nella lezione